Oltre 246.000 prodotti privi di ogni etichetta, senza ogni avvertenza sulla pericolosità di alcuni materiali, con mancata precisazione della provenienza e delle indicazioni in lingua italiana senza posizione della marcatura, con marcatura non conforme, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Paola. Il materiale sequestrato è stato trovato durante un controllo effettuato in un grosso esercizio commerciale della cittadina tirrenica, gestito da persone di origine cinese, finalizzato a prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi o pericolosi per la salute. Tra i prodotti sequestrati vi sono anche numerosi articoli di carnevale, elettrici ed elettronici non a norma, giocattoli privi di marcatura, ovvero non conforme, senza istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e correlate avvertenze in lingua italiana, sull'uso e sull'età minima degli utilizzatori, sull'eventuale nocività del prodotto e sui materiali utilizzati per il loro confezionamento, nonché articoli destinati all'uso scolastico e cosmetici privi delle normali informazioni sul contenuto e sulla sicurezza. Il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle leggi avrebbe potuto essere causa di effetti nocivi per i potenziali acquirenti ignari delle informazioni minime che l'etichettatura di qualsiasi bene di consumo dovrebbe contenere. Il titolare del negozio in cui erano in vendita rischia ora una sanzione amministrativa fino a 60.000 euro.